Buongiorno a tutti i nuovi video Io sono Anna e io Luigi Adesso vi presentiamo i nostri figli Lei è Maria Ciao ragazzi Come hanno già detto i miei genitori Io mi chiamo Maria E ho 15 anni Ok Poi ci sono loro Ciao Io Vabbè Perché non lo dite voi come diciamo Vabbè Lui si chiama Andrea E ha 12 anni Ok Invece Ok dico io il mio nome Allora io invece mi chiamo Marco E ho 10 anni Poi c'è la piccolina Dici come ti chiami Io mi chiamo Melli E quanti anni hai Ho 3 anni Ok Ora in realtà noi Stiamo cucinando Però Prima di mangiare Andiamo a comprare I telefoni Ai ragazzi Facciamo una sorpresa Ragazzi noi usciamo un attimo Spegniamo il fuoco Ok Andiamo bene Guarda Se compriamo il telefono Ragazzi facciamo una bella sorpresa Eccoci arrivati Ragazzi Allora Alla piccola Ha solo 3 anni Quindi quando compriamo Niente Perché è troppo piccola Invece Invece Allora A Maria Visto che ha 15 anni Io direi di comprarle Ehm Cosa ha detto che voleva Allora Lei voleva sia il telefono Che il computer Proprio non mi sembra giusto Per i fratelli Già Quindi compriamo solo il telefono Per ora Allora Lei desiderava questo Questo trasparente Ok Invece A Marco Che ha 10 anni E' un po' piccolo Vedete il telefono Quindi Gli compriamo Un tablet Con la matita Lui Non si può avere Una busta Scusi Si vado a prendere Un carrello Signora Ok Grazie Carrello e busta Se vuole Certo Grazie Per favore Perfetto Ecco mi sto arrivando Allora Ecco a voi Il carrello Qui potete mettere Tutto La busta Ve la do io dopo Grazie signora E che che Ok Allora Iniziamo a mettere Tablet E penna Qui dentro E anche Il telefono Di Maria Poi Ad Andrea Che ha 12 anni Quindi Va bene Il telefono Gli prendiamo Questo E poi Visto che a noi Si sono rotti Gli prendiamo Poi a noi Questo E questo Ok Si sa E tanta roba Ragazzi Però serve No Questo No Non ci serve Allora Eccoci Signora Quanto sono Vabbè Pagate con carta Ragazzi Ok Perfetto Andate La busta La busta Ecco qui Il canello Lo lasciate a me Per cortesia Va bene Ecco a lei Mettatelo qui A rivederci A rivederci a lei Signori A rivederci a loro Ci vediamo Alla prossima Si si Alla prossima Si si Ragazzi Abbiamo una sorpresa Per voi Davvero cos'è Ok prima tu Dai forza Tieni Grazie 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 È troppo bello Io devo scaricare Tutte le app Ok Andiamo Al prossimo Al prossimo Ragazzi Si Abbiamo una sorpresa Per voi Dov'è tu fratello Ecco mi stavamo Gioando a nascondino Ah Ok Ottimo nascondiglio Comunque Tieni Grazie E Tieni anche Sp Ecco M No amore Tu sei piccola Sei troppo piccola Per queste cose E va bene Ok Perfetto Ora Possiamo mangiare Ragazzi Quindi Noi mettiamo qui Perché la nostra camera Sta giù Dopo li andiamo a posare Che ragazzi Mi so che si è fatta Sera Ecco qui Forza ragazzi Venite a mangiare Dai che sera Come se si 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 Forza ragazzi Venite Mamma mia Bravi Passate La tecnologia Telefoni E tablet Negli armadi E venite a mangiare Forza Ora Ora mettiamo il cibo A tavola Non vi lamentate Ok Passiamo un attimo Qui questo Il giocciotto Lo puestiamo Andiamo 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 Come è la tua Passiamo un posto Il giocciotto Andiamo qui Siamo un po' grandi Per il giocciotto Eh Eccomi Ok ragazzi Abbiamo finito Di mangiare E Oddio Ecco qui Perfetto Abbiamo finito Di mangiare Ora Andiamo A dormire Ok ragazzi Giù Abbiamo già Spinto Tutte le luci Perché E' buio Quindi Davvero Notte Ok Prima di tutto Ci mettiamo Il pigiama Quindi Il mio dovrebbe stare qui Eccolo Ci mettiamo Il pigiama Io mi tolgo gli occiali O che sono caduti Ma Inizio a dormire Che domani Devo andare al lavoro presto Invece Io Anche io Devo andare al lavoro presto Quindi Cominciò A dormire Adesso Non riuscissimo Ecco A prendere il pigiama Ragazzi Ho un pigiama A giacca Buonanotte Buongiorno Buongiorno Perfetto Quindi Io devo andare al lavoro Quindi Ragazzi Se il video Vi è piaciuto Iscrivetevi Lasciate mi piace E condividete Mi raccomando Ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao Ciao